La diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, ha voluto incontrare la comunità per riflettere sul cammino verso il Giubileo 2025 e sulle linee guida per affrontare con spirito di comunione e speranza il nuovo anno pastorale. Noi ci stiamo preparando, riflettendo proprio sul tema centrale del Giubileo, ovvero il tema della speranza. Pellegrini di speranza è il binomio che Santo Padre ha voluto affidare alla Chiesa Universale. Non dobbiamo dimenticare che siamo davvero pellegrini, però pellegrini gioiosi, pellegrini illuminati, con la lampada accesa, come dice il Vangelo, con la fiaccola della nostra vita che deve essere alimentata dalla preghiera, dalla carità, dal condono, perché il Giubileo richiama forzamente questi valori. Ebbene, noi ci sforziamo di affrontare questo cammino, questo programma, partendo proprio dall'Apostolo Paolo che ci è sorta a sperare e per noi, come dice l'Apostolo Paolo, la speranza non è qualcosa di utopico, bensì una realtà, quello che auguro anche a tutti quanti voi. Vivete, viviamo tutti gli speranzi e soprattutto alimentiamo la fiaccola della speranza con l'olio della carità, dobbiamo. Utilizzeremo le indicazioni che sono state scritte nell'ultima sintesi di Ocesana, proprio quella della sintesi della fase sapienziale, dove ci sono già evidenziate alcune tematiche che poi diverranno scelte operative per la nostra Chiesa locale. Relatore del convegno dal titolo Pellegrini di Speranza, Don Sebastiano Pinto, biblista e docente di Esegesi presso la Facoltà Teologica Pugliese. Soprattutto questo nostro mondo ha bisogno di questa speranza, perché la speranza apre a quella dimensione ultraterrena che per noi cristiani è fondamentale, ma anche per i non credenti. Una vita troppo schiacciata sul qui e ora è una vita che non respira. Allora la speranza, possiamo dire così, è proprio questa capacità che viene data all'uomo di poter respirare, quindi i polmoni, quella che è la propria vita e la propria vocazione al benessere, potremmo dire la propria vocazione alla felicità. Per noi cristiani questo diventa anche una vocazione verso la vita eterna e verso le cose alte, verso la trascendenza.